Siamo pronti, è ufficiale, taglio del nastro inaugura l'Iglou Village, Villa Fiorentino, un forte applauso! Grazie per la visione! Grazie a tutti! Un'inaugurazione assolutamente fantastica, un'inaugurazione assolutamente fantastica, l'Iglou Village è ufficialmente aperto da oggi 4 dicembre fino all'8 gennaio qui a Villa Fiorentino a Sorrento, la magia del Natale. Un evento come detto già prima imperdibile e poi andremo a scoprire tutto quello che c'è qui in questo meraviglioso villaggio che va bene per i più piccoli, per i più grandi perché la magia del Natale deve essere di tutti.